Ciao a tutti, cari e cari, io sono Ginius e teniamo in questo nuovo video delle lotte Wi-Fi di Pokémon Horus Questa volta siamo contro Salluz, il mio sfidante alla semifinale del torneo del gruppo Facebook Pokémon Sun e Moon League Ragazzi, mi raccomando, passateci perché merita tantissimo Lo staff è veramente ottimo, fanno anche giveaway qualche volta e quindi entrate e sfidate tutte le palestre Comunque, io porto lo stesso team della scorsa volta con l'unica differenza che al posto di Gigalit, dato che lo facevo esplodere e basta Ci ho messo il muro difensivo d'erba per eccellenza, ovvero Tengroot Mentre il nostro avversario ha praticamente un anti-team perché ha Nido, King Swampert, Pacerisu, Polito, Azumarill E il nostro bellissimo Itmotop che abbiamo anche noi, Itmotop, mi fa fuori Snorlax Con Azumarill mi fa fuori Camerapt, stessa cosa vale anche per il grandissimo Swampert Pacerisu può dar fastidio a tutti quanti perché sono qui e Nido, King invece mi shotta malamente Tengroot Comunque ragazzi, andiamo subito a vedere la lotte E così parte la sfida con Salluz Io lido con Rotom e Crisselia, mentre lui lida con Itmotop e Azumarill, entrambi Shiny Sono abbastanza carini Shiny, soprattutto Itmotop, anche se Rossi, non lo so, ce l'ho anch'io Itmotop Shiny Però boh, vabbè chi se ne frega gli Shiny, per potenza Itmotop si attiva Ovviamente parte con bruciapelo su Rotom, io invece vado di Psychoshock sopra il suo Itmotop Scusate se al lato destro è tagliato, però ho registrato male lo schermo con la fotocamera E vabbè, pazienza, l'importante è che si capisce Azumarill invece, come al solito, va a fare Panciamburo Era palese, però non potevo fargli niente Potevo andarci di fulmine siletto su Azumarill, qua se l'hai rischiata tantissimo E invece, no, non ci sono andato, lui è rimasto in campo, ha fatto Panciamburo Non so se è stato un overpredict, a parte che no, era impossibile che lo avessi colpito perché mi ha fatto bruciapelo Ritrata tutto quello che ho detto Comunque, Switch ha il suo bellissimo Itmotop per mandare in campo Politod Per attivare la pioggia, fare più danni con le mosse di tipo acqua di Azumarill Qua scatta la protezione da parte del mio Crissalia e da parte di Azumarill Io colpisco Azumarill che si protegge e lui Switch ha quindi questo turno praticamente morto È soltanto un turno per recuperare vita tramite gli avanzi Azumarill qua fa acquaggetto potentissimo sopra il nostro Rotom Sott'acqua, nonostante sia non molto efficace dopo il boost di Panciamburo che l'ha portato a più 6 L'abilità macro forza Riesco a reggere, reggo pure l'idroampata di Politod Ma sfortuna vuole che rimanga scottato con quei 7 PS di vita Non che sarebbe servita qualcosa, la scottatura sarei morta sicuramente al turno dopo con un altro acquaggetto di Azumarill Però va bene, almeno qua riesco a sopravvivere, fare un fuoco fatuo su Azumarill E quindi dimezzargli l'attacco prima di poter morire con il fuoco Oppure rimango vivo di nuovo, non mi ricordo Intanto Azumarill è più veloce quindi si piglia danni prima di me dalla scottatura E Rotom no, non lo regge il fuoco E mi va anche bene Anche se avevo perso un difensore fisico così Comunque mando Tengroot ovviamente perché contro due Pokémon di tipo Acqua Chi vuoi non mandarci se non Tengroot Lui ritira Politod aspettandosi un giga assorbimento o qualcosa del genere Manda in campo il suo Pacirisu, anch'esso Shiny Mentre con Crystallia io continuo a usare protezione Se non erro pure il suo Azumarill lo usa protezione Infatti quando uso protezione con Crystallia lo usa pure l'Azumarill avversario Mentre io ho usato giga assorbimento su Azumarill Infatti si è protetto E vabbè Turno perso pure questo, turno vuoto Pacirisu qua usa Sono qui non che importasse qualcosa perché io avevo attaccato lui Con Crystallia faccio lo Psychoshock Gli faccio un po' di danni a questo Pacirisu Azumarill va di carineria sul mio Tengroot Fa tantissimo danno Però si prende danni dal Bitorzolelmo perché in questa partita Tengroot aveva il Bitorzolelmo Mentre Crystallia aveva la menta l'erba Quasi almeno se avesse ricevuto provocazioni Avrebbe potuto mettere lo stesso la Trickrum E qua vado a usare Sonnifero su Pacirisu Che per fortuna non mi sa Nel frattempo invece Azumarill muore di scottatura E' stato un bene scottarlo e pararlo con gli muri difensivi Rotom e Tengroot Perché sarebbe stato veramente un problema Una Azumarill la più 6 d'attacco Qua entra lo Swampert Rosa, lo Swampert Shiny Io ritiro Tengroot perché ritirandolo Tengroot aumenta la sua vita del 33% Grazie all'abilità Rigenergia Abilità molto utile che fa di questo Tengroot Tengroot o un mostro difensivo allucinante Per un video speciale fa cacare Quindi muore con un lanciafiamme secco proprio Qua Swampert Mega Evolve e protegge Per avere il suo boost E il suo nodo Velox Dato che c'è la pioggia ancora Pacirisu continua a dormire E io qua approfitto finalmente Per utilizzare la distorto zona Così La pioggia intanto smette A zoom Pacirisu recupera vita tramite gli avanzi Manco si vede la vita Madonna mi dà un fastidio altissimo Che non si veda tutta la vita dell'avversario Però vabbè Swampert comunque viene ritirato Perché probabilmente si aspettava Un corpo scontro O uno Psycho Shock O un double target su di lui Quindi manda in campo Hitmon Top Che con prepotenza Mi diminuisce l'attacco di uno stadio Io però uso Panciamburo con Snorlax Quindi al posto di andare a più 6 Vado a più 5 Perché sarei dovuto arrivare a più 6 Ma ha dato il buff Cioè ha dato il drop Con Panciamburo Con la stessa mossa Usato a zoomare il primo Tra l'altro Arrivo a più 5 Ricopro vita grazie alla baccacetera Ovviamente perché Panciamburo E' quella mossa Che ti di mezzo ai PS Ma ti massimizza l'attacco Qua faccio Psycho Shock Switmon Top E non muore per un PS O giù di lì Ne avrà avuti massimo 5-7 di PS Pacirisu invece continua a stare in letargo Continua a dormire Crystalia qua lo switch Perché mi aspettavo un bruciafelo su di lui Oppure Ah no Qua lo switch che staglia Perché questa qua è stata la mia strategia Io con l'Hitmon Top vado Faccio prepotenza Proteggo il mio Snorlax E poi al turno dopo Faccio bruciapelo sull'Hitmon Top Così almeno Snorlax mi rimane vivo Non mi dà problemi con l'Hitmon Top E ciao Pacirisu qua usa Sono qui inutilmente Perché io ho switchato il protetto Quindi è inutile Mentre l'Hitmon Top va diretto Proprio di zuffa Su Snorlax Quindi l'avevo predictato bene Per fortuna Siamo sotto Trickum E quindi sono più veloce E adesso quindi Sospettavo il bruciapelo Sul Hitmon Top E lo ritira Perché gli sarebbe stato utile Contro il mio Snorlax E rimanda in campo Polithod Madonna ragazzi Polithod È una spina al fianco In tutti i team Anche per rimettere la pioggia Polithod l'ha messo qua Perché dopo poi sarebbe Entrato di nuovo Con Swampert Bruciapelo quindi va a finire Su di Polithod Io non potevo rischiarmene Predictare Perché sennò avrei perso Uno Snorlax A più 5 Che guardate qua Shotta Pacirisu Penso Difensore fisico Non lo so Intanto se è andato Lo scogliattolino via Qua entra Hitmon Top Di nuovo E qua invece Gli faccio la giochessa Qua mi fa di nuovo Prepotenza Quindi adesso Mi attacco a più 4 Ma comunque a più 4 E o più lo stesso Snorlax Gli faccio protezione Lo stesso trucchettino Di prima Di prima Però questa volta Non con il bruciapelo Che infatti Mi ha fatto lui Su Snorlax Ma con il finto Attacco Che ciao Butta giù L'Ithmon Top Avversario Probabilmente il suo Non l'aveva Oppure non l'ha Predictata questa mossa Polithod fa I trovampata Su Snorlax Che si protegge E qua La distrutta zona Torna normale Quindi adesso Sono più veloci I suoi Pokémon Perché i miei Sono lenti Come la merda Entra il nido King Shiny Usa Geoforza Che non leva Niente proprio A Snorlax Il mio Ithmon Top Va di zuffa Su quel Polithod Per fare danni Però così facendo Mi si minimiscono La difesa speciale E la difesa E quindi Questo idrovampata Stabbato Di Polithod Sott'acqua Ma avrebbe sicuramente Shottato Ithmon Top Però lo fa Su Snorlax E guarda caso Un'altra scottatura Quindi il mio attacco Adesso è a più Due Basta Se non lo so Contrato bene E quindi Non riesco a shottare Quel nido King Io Se avessi ammazzato Quel nido King Probabilmente La partita Sarebbe andata In modo diverso Comunque Nido King Viene switchato Entra di nuovo In campo Swampert Ithmon Top Usa zuffa Lo faccio su Lo Swampert Questa volta Perché prima c'era Nido King Dove buttarlo giù Anche se in realtà Non resisteva il veleno Se non erro Se non erro La lotta resiste il veleno Cioè il veleno resiste la lotta Non lo so Non mi ricordo E qua invece Come dicevo prima Ithmon Top Crepa dopo un'idrovampata Potentissimo Del Polithod Che però Si prende pure Un corpo scontro Di uno Snorlax Scottato Però più 4 Quindi ha più 2 E basta e avanza Per farlo fuori Ma Snorlax Muore di scottatura Ed è il mio Secondo Pokémon Che va giù Per via della scottatura Vabbè Qua adesso Entro in campo Con Tancroft Che come vi dicevo Ha recuperato il 33% Di vita Essendo stato switchato Quindi adesso Posso Ri-switcharlo E fargli recuperare Ancora più vita Se non sbaglio Mi sono rimasti 3 Pokémon Tengroot Megacamerapt E Crisselia Ma io con Megacamerapt Contro Nidoking E Swampert Avversari Perché sono rimasti Su loro 2 Non facevo niente Infatti qua lo mando Per sacrificarlo Perché volevo Rientrare con Il mio Tengroot Invece no Lui va safe Fango bomba Sul posto dove c'era Tengroot E qua mi fa tentennare Crisselia Con la cascata Questa qua è stata La mossa decisiva Perché qua io avevo fatto Psycho Shock Sul Nidoking Nidoking sarebbe Morto al 100% Sarò rimasto Con Crisselia Tengroot E Camerapt Con Crisselia Mettevo la Trickrum Camerapt Mi moriva Non ero importante E poi finivo Tutti i giochi Con Tengroot Con il giga Assorbimento Invece no Qua fa una buona Giocata Mi double target A Crisselia Perché aveva capito Questa cosa Me la sarebbe potuta Giocare meglio Qua avrei potuto Proteggere Crisselia A far fuori Nidoking Con un Earth Power E poi rimanere 3 contro 1 E invece no Ho avuto un po' Di sfiga Un po' Sono stato scemo io Sono rimasti Tengroot E Mega Camerapt Nidoking Mi sciotta malamente Tengroot Con questo fango bomba Perché come vi dicevo prima Tengroot è buona In difesa fisica Ma la difesa speciale Muore subito E ovviamente Una cascata 4x Su Camerapt Non la piglio Per niente bene E quindi Finisce così La battaglia Molto combattuta Molto bella Sarei potuto arrivare In finale Se avessi giocato Un pochino meglio Se avessi avuto Meno sfiga Per quanto riguarda Scottature E il flinch finale Ma questo è il gioco Negli quarti di finale Avevo axato fin troppo Il karma Mi si è ritorto contro Comunque per questo Vi è tutto Se vi è piaciuto 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 Passate a Facebook Instagram TSTelegram E noi ci vediamo domani Con un prossimo video E ricordatevi di passare Anche dal gruppo Facebook Della Sun & Moon Link Link in descrizione Ciao ragazzi